no no non voglio dai su ti ho lasciato anche 4 giorni in più si dopo avermi strappato oh ero arrabbiato con l'anno scorso cosa ti devo dire e te la prendi con me vabbè che mi ha preso il nervosismo ok ma io cosa c'entro e c'è devi capire che il calendario è il simbolo cosa? niente niente lascia stare robe vecchie e meno male che ti ho fermato sono chissà cos'altro avresti voluto farmi ma niente figurati cosa volevi fare allora con tutti quei petardi che hai comprato? festeggiare il capodanno e poi non erano neanche i miei e quel foglio sulla stampante come me lo spieghi? ma quale foglio? ah quello? wow erano solo scarabocchi no no è che io ti sto antipatico è per quello ma va davvero nulla di personale ma ormai sei passato cosa vuoi dire? è che vuoi dire che ormai sei pre-storia amico fai spazio ai giovani chi era? scusa è che hai insistito per venire e vabbè vedete è già giorni che usurpa il mio posto questo qui no non lui eh sì invece sì chiaro ehi tu forza tirami su lo sapevo il calendario del 2019 scusa io non volivo eh ma ma adesso è ora che tu ti ne va di torno sono stato fin troppo buono con te no scordatelo non prenderai mai il mio posto e poi perché sei così piccolo? beh mi sembra ovvio sono appena nato e parli già anche troppo? scusa? niente niente tranquillo dammi un solo motivo perché tu dovresti essere migliore di me beh senza di me non si potrebbero mai realizzare i buoni propositi eh anch'io quando ero giovane dicevo la stessa cosa cosa vuoi dire? ti faccio vedere ascolta tizio quali erano i tuoi propositi per l'anno scorso? eh scusa stavi parlando con me? no guarda con il muro ma cosa volete sempre da me? allora rimettermi in forma e quanto pesi adesso? non sono affari tuoi ecco poi migliorare a fare video beh che c'è? ce n'era un ultimo se non mi sbaglio fare una vittoria reale a portrait e com'è andata? il gioco si è autodisinstallato per la vergogna capito ora? oddio hai ragione ecco quindi lasciami in pace rimarrò qui io no te lo scordi sai forse ho una soluzione tenere me e correggere ogni giorno della settimana uno per uno ma sei impazzito sono troppo pigro e poi sicuramente sbaglieresti qualcosa cosa? nulla comunque lascia fare a me ok ed ecco qua wow è perfetto sono pure più magro grande bella idea hai visto? geniale ma ascolta per i prossimi mesi come farai? prossimi mesi? eh sì ma guarda ho una soluzione proprio di là nell'altra stanza? no in messico ciao oh dove vai?